di replicare alla risposta alla sua interrogazione, si intende vi abbia rinunciato. Passiamo all'interpellanza numero 2588 dei deputati Gregori ed altri e all'interrogazione numero 3541 del deputato Boccadutri concernente intendimenti del Governo in relazione ad iniziative celebrative in memoria del gerarca fascista Rodolfo Graziani nel comune di Affile, in provincia di Roma, anche ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per lo scioglimento del relativo Consiglio Comunale. L'interpellanza e l'interrogazione, avvertendo sullo stesso argomento, verranno svolte congiuntamente. Chiedo alla deputata Gregori se intende illustrare la sua interpellanza. Prego, onorevole, lei la parola. Sì, grazie signora Presidente e grazie al sottosegretario. Mi trovo qui per la seconda volta in quest'Aula a cercare da parte del Governo una risposta che sia concreta e archivi definitivamente la storia del comune di Affile, in provincia di Roma, che nell'agosto 2012, grazie a un finanziamento della Giunta regionale guidata dall'ex Presidente Polverini, ha eretto un monumento al gerarca fascista Rodolfo Graziani, che tutti sappiamo è stato un criminale di guerra, nonché è stato proprio condannato dal Tribunale militare di Roma nel 1950 per collaborazionismo. Questa situazione, tutti sappiamo, ha creato delle tensioni a livello nazionale e internazionale, in special modo con il popolo etiope che ha subito i crimini indicibili da parte del Graziani. Solamente grazie all'intervento dell'attuale Giunta regionale siamo riusciti a ritirare il finanziamento per il completamento di un parco che doveva andare intorno a quel monumento. E qui voglio ribadire e ringraziare ancora una volta il Presidente della Giunta regionale, Nicola Zingaretti. Questa situazione, come dicevo, è una situazione che oramai va avanti da molti anni. Sono noti dei fatti molto gravi avvenuti nel 2013, nel 2014, nel 2013, dove il Sindaco Viri organizzò una pubblica commemorazione al gerarca, nell'occasione, come riportato anche dalla stampa, i presenti più volte hanno inneggiato al fascismo con saluti romani. Qui le forze dell'ordine non hanno ritenuto necessario comunicare a organi più alti o comunque fare delle denunce su questo fatto, ma non si sono tirati indietro invece quando è stato imbrattato il monumento della gerarca e hanno denunciato tre ragazzi però sciolti poi dal Tribunale di Tivoli per insussistenza del fatto. Il 16 maggio 2014, invece, durante il passaggio del Giro d'Italia, il Sindaco Viri, che presiede l'Associazione Culturale Maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani, fece affiggere dei manifesti lungo il percorso che il Giro doveva compiere, ringraziando gli organizzatori dello stesso Giro per aver omaggiato la memoria del Graziani. È evidente che il Sindaco Viri turba con tali atti l'ordine pubblico esprimendo simpatia verso l'ideologia fascista e un suo rappresentante. L'articolo 141,1 lettera del testo unico degli antilocali prevede scioglimento di consigli comunali e provinciali quando essi compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi d'ordine pubblico. Il persistente comportamento del Sindaco di Affile potrebbe integrare gli estremi di cui è al citato articolo. Inoltre, poi, vi è la violazione dell'articolo 2 dello Statuto Comunale di Affile che prevede quali principi ispiratori della comunità cittadina, la solidarietà ai diritti dei cittadini, il superamento degli squilibri sociali, civili e culturali, l'uguaglianza e la paridignità sociale dei cittadini e dei sessi. Pare a riguardo discutibile che non risulti alcuna iniziativa da parte del Prefetto a riguardo, proprio quando le forze dell'ordine sono zelanti nel verbalizzare atti di critica e denunzia dei giovani contrari al mausoleo da affile. Con questa interpellanza vogliamo sapere quali sono le direttive che il Ministero intende impartire alla Prefettura di Roma e al Commissariato competente per il territorio e verificare il rispetto degli articoli 54 del tasto unico degli enti locali che prevede i compiti del Sindaco quale ufficiale di governo e 33 dello Statuto del Comune di Affile che prevede l'obbligo di informativa del Sindaco al Prefetto in materia d'ordine pubblico, specie alla luce del fatto che il Sindaco Ercoli Viri è anche Presidente di un'associazione neofascista e quali atti intenda disporre autonomamente per la tutela dell'ordine pubblico in relazione agli eventi di sostanziale saltazione del fascismo e di un criminale di guerra e se sussistano poi i presupposti per lo scioglimento del Comune di Affile per atti contrari alla Costituzione. Grazie. Grazie, onorevole Gregori. Il sottosegretario per l'interno, Gian Piero Boccia, ha facoltà di rispondere. Prego, sottosegretario. Grazie, Presidente. Con l'interpellanza all'ordine del giorno, l'onorevole Gregori, unitamente da altri deputati, richiama nuovamente l'attenzione del Ministero dell'Interno sulla vicenda del monumento dedicato dall'amministrazione comunale di Affile al generale gerarca fascista Rodolfo Graziani e segnala quali ulteriori episodi di esaltazione del fascismo verificatosi in quel Comune una commemorazione pubblica dello stesso Graziani organizzata dal Sindaco Viri nel giugno 2013 e l'affissione di manifesti indigianti al gerarca in occasione del passaggio al Giro Ciclistico d'Italia 2014. In relazione a ciò, l'interpellante chiede quali interventi si intendono porre in essere a tutela dell'ordine pubblico e se esistono i presupposti per lo scioglimento del Comune per atti contrari alla Costituzione. Sullo stesso argomento verte l'interrogazione dell'onorevole Boccadutri anch'essa all'ordine del giorno alla quale risponderò congiuntamente. Sulla questione del monumento...